Venite per visitare questa regione con le comari di Puglia e vedrete, troverete... No, mi sono preparato, sono un po' improvvisato. Magari potresti dire venite in Puglia e potete scoprire delle zone meno note. Si, quello è il concetto proprio quando inizi a parlare. Quando visiti Puglia, normalmente vai al mare, al parco. Per aver... Lo rifaccio. Lo rifaccio. Lo rifaccio. Lo rifaccio. Ma hai tanto iniziato a registrare. Tanto poi lo edito però di Meat Store... Tanto poi lo edito però di Meat Store... Tanto poi lo edito però di Meat Store... Perché quest'ultimo pezzo lo rifaccio. It's approximately 800 meters above sea level. Come here to Puglia and you will find out what we can show you here. Come visit Puglia, we will show you things... Che faccio stoppo? Mi faccio? We... 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 We...